Dov'è finito? Voglio un giocatore ci dà i soldi! Ma che? Nono! 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 Cosa? Voglio comprare un giocatore! E poi? Mi serve qualche euro! Basta! Si certo! Papà io vado giostre! Amore ma sono vuoto! 1, 2, 3, 4! Te manca ancora uno! Papà meno 2 euro per la merenda! Vabbè per la merenda va bene! Portafoglio? Eh aspetta! Andiamo! Andiamo a vedere il mio portafoglio! Andiamo! Papà! Dov'è mio portafoglio? Portafoglio dov'è? Dove sto oggi? Papà! Amelia! Ti mancava! 20 euro!